Nel centenario dalla nascita di Michele Trivisonno sono stati organizzati una serie di eventi per ricordarlo, due giorni promossi dalla Fondazione che porta il suo nome. L'inizio con la celebrazione della Santa Messa in memoria del Fondatore, poi la proiezione del video Una Storia da raccontare, la presentazione del sito web dedicata alla Fondazione, la deposizione dei fiori sulla sua tomba e l'evento nell'atrio di Palazzo Ducale con la premiazione degli studenti che hanno realizzato delle opere pittoriche in una estemporanea che ha visto la partecipazione anche di artisti professionisti e amatoriali provenienti da diverse regioni italiane. Ottima la partecipazione di pubblico. Infine, in conclusione della serata e dei due giorni, c'è stata la rappresentazione teatrale dal titolo Mio Nonno e il Mulo. Un giorno di iniziative che abbiamo fatto proprio in memoria del fondatore Michele Trivisonno. Il 28 maggio 2013 lui ha fondato questa fondazione, ci ha lasciati sei anni fa e noi portiamo avanti i valori statutari che caratterizzano la fondazione proprio nella sua memoria con tante iniziative su alcuni aspetti importanti come la solidarietà per le persone bisognose, gli ammalati, le giovani generazioni e più in generale il paesaggio, l'ambiente, gli aspetti culturali, archeologici, architettonici e storici della nostra città di cui è ricca, proprio per la loro valorizzazione. Ma anche il ricordo dell'amico e delle splendide qualità che Michelino Trivisonno incarnava. Michelino Trivisonno era una persona straordinaria, una persona normale ma di grande personalità, una persona intelligentissima, pratica, uomo di fede e una persona professionalmente competente. Questa qualità, questa condizione le ha consentite di raggiungere obiettivi importanti nella sua vita. Questa iniziativa è stata organizzata dalla fondazione Michelino Trivisonno nel centennio della sua nascita. Siccome la fondazione si occupa proprio di solidarietà, il tema di tutto il concorso e l'estemporanea di pittura è stata solidarietà. Quindi si vede dai quadri come si sono ispirati i pittori sulla tela. E quindi sono state coinvolte anche le scuole medie. Oggi è un momento importante perché ricordiamo una persona che ha dato molto alla nostra comunità e prima di lasciarci ha voluto costituire questa fondazione che in questi anni sta dando tantissimo e sta attenzionando tanti progetti sia a livello sociale che a livello culturale. E quindi sono soggetti, queste fondazioni che supportano le istituzioni, il comune, la regione, l'ambito sociale. Quindi questo ci fa molto piacere. Infatti tanti progetti poi si vanno a integrare con altri e quindi questa rete riesce a fare sinergia e a rendere questi supporti, questi progetti più efficaci.